Tu ti applichi con costanza e hai lasciato da parte tutto il resto per renderti ogni giorno migliore a prova e ne sono contento quindi non solo ti esorto ma anche ti prego di perseverare un unico consiglio non abbigliarti e non vivere in maniera stravagante come le persone che non vogliono progredire ma mettersi in mostra evita gli abiti trasandati i capelli lunghi e la barba incolta il disprezzo manifesto per i preziosi il letto sistemato a terra e in generale tutto ciò che per vie traverse corre dietro al desiderio di distinguersi il nome stesso di filosofia pur se la si pratica con discrezione è già abbastanza odiato figurati poi se cominceremo a sottrarci alle abituali regole di comportamento bisogna essere nell'intimo completamente diversi dagli altri ma simile al resto della gente nell'aspetto esteriore la toga non deve essere sfarzosa ma nemmeno sordida cerchiamo di non avere argento cesellato d'oro massiccio ma neanche consideriamo segno di frugalità far completamente a meno sia di oro che di argento sforziamoci di vivere meglio della massa non in maniera contraria altrimenti mettiamo in fuga e allontaniamo da noi quelli che vorremmo correggere e per giunta facciamo sì che non ci vogliano imitare per niente per timore di doverci imitare in tutto ecco le promesse prime della filosofia senso comune umanità e socievolezza l'essere troppo diversi ci impedirà di attuarle vediamo che non sia ridicolo e fastidioso quel comportamento con cui vogliamo suscitare ammirazione certo il nostro proposito è vivere secondo natura ma è contro natura tormentare il proprio corpo trascurare la normale igiene ricercare sudiciume e nutrirsi di cibi non solo poveri ma addirittura disgustosi e sgradevoli come segno di mollezza cercare alimenti raffinati così è segno di pazzia evitare quelli comuni che si possono avere a poco prezzo la filosofia richiede frugalità non sofferenza e la frugalità può essere decorosa mi sembra buona questa via di mezzo l'esistenza sia una giusta combinazione tra moralità e morale predominante che tutta la gente guardi con ammirazione la nostra vita ma sia anche in grado di capirla e allora dovremmo comportarci come gli altri non ci sarà nessuna differenza tra noi e loro sì è grandissima chi ci guarda più da vicino sappia che siamo diversi dalla massa chi entra in casa nostra ammiri noi non il nostro mobilio è grande chi usa vasellami di argilla come se fossero di argento ma non lo è meno chi usa l'argento come se fosse argilla solo i deboli non sono in grado di reggere la ricchezza lucilio caro mi rendo conto che non solo mi sto correggendo ma addirittura mi trasformo certo non garantisco e nemmeno spero che non ci sia in me più nulla da cambiare e perché non dovrei avere ancora molti sentimenti da frenare da attenuare da elevare vedere difetti che fino ad allora ignorava proprio questa è la prova di un animo che ha fatto progressi con certi malati ci si rallegra quando prendono coscienza del loro male ci terrei dunque a farti conoscere questo mio improvviso cambiamento allora comincerei ad avere una più salda fiducia nella nostra amicizia quella vera che non la speranza non il timore nella ricerca del proprio interesse può spezzare quell'amicizia che dura fino alla morte e per la quale si è pronti a morire potrei menzionarti molti cui non è mancato l'amico ma la vera amicizia questo non può verificarsi quando un'identica volontà di desiderare il bene induce gli uomini ad unirsi perché no perché si sanno di avere ogni cosa in comune e soprattutto le avversità non puoi immaginare quali progressi io mi accorga di compiere giorno per giorno tu mi dici riferisci anche a me questo metodo che hai trovato così efficace certo desidero travasare in te tutto il mio sapere e sono lieto di imparare qualcosa appunto per insegnarla di nessuna nozione potrei compiacermi per quanto straordinaria e vantaggiosa se ne avessi conoscenza per me solo se mi fosse concesso alla sapienza a condizione di tenerla chiusa in me senza trasmetterla ad altri rifiuterai non da gioia il possesso di nessun bene se non puoi dividerlo con gli altri ti manderò perciò i miei libri e perché tu non perda tempo a rintracciare qua e là i passi utili li sottolineerò così troverai subito quello che condivido e apprezzo più che un discorso scritto però ti sarà utile il poter vivere e conversare insieme al momento necessario che tu venga primo perché gli uomini credono di più ai loro occhi che alle loro orecchie poi perché attraverso i precetti il cammino è lungo mentre è breve ed efficace attraverso gli esempi cleante non avrebbe potuto esprimere completamente la dottrina di zenone se avesse soltanto ascoltato le sue lezioni fu partecipe alla sua vita ne penetrò i segreti osservò se viveva secondo i suoi insegnamenti platone aristotele e tutta la massa dei filosofi che poi presero strade diverse impararono più dalla vita che dalle parole di socrate non la scuola di epicuro ma il vivere con lui rese grandi metrodoro per marco e polieno e non ti faccio venire solo perché tu ne tragga giuvamento ma anche perché tu mi sia utile ti aiuteremo moltissimo a vicenda frattanto poiché ti devo il mio piccolo contributo quotidiano ti dirò il pensiero che oggi mi è piaciuto in ecatone tu chiedi quali progressi abbia fatto e gli scrive ho cominciato ad essere amico di me stesso ha fatto un grande progresso e non sarà mai solo sappi che tutti possono avere questo amico stammi bene mi chiedi che cosa secondo me dovresti soprattutto evitare la folla non puoi ancora affidarti ad essa tranquillamente quanto a me ti confesserò la mia debolezza quando rientro non sono mai lo stesso di prima l'ordine interiore che mi ero dato in parte si scompone qualche difetto che avevo eliminato ritorna capita agli ammalati che una prolungata infermità li indebolisca il punto da non poter uscire senza danno così è per me reduce da una lunga malattia spirituale i rapporti con una grande quantità di persone sono deleteri c'è sempre qualcuno che ci suggerisce un vizio o ce lo trasmette o ce lo attacca a nostra insaputa più è la gente con cui ci mescoliamo tanto maggiore il rischio ma non c'è niente di più dannoso alla morale che l'assistere oziosi a qualche spettacolo i vizi si insinuano più facilmente attraverso i piaceri capisci che cosa intendo dire ritorno più avaro più ambizioso più dissoluto anzi addirittura più crudele e disumano poiché sono stato in mezzo agli uomini verso mezzogiorno sono capitato per caso a uno spettacolo mi attendevo qualche scenetta comica qualche battuta spiritosa un momento di distensione che desse pace agli occhi dopo tanto sangue tutto al contrario di fronte a questi i combattimenti precedenti erano atti di pietà ora niente più scherzi ma veri e propri omicidi gli gladiatori non hanno nulla con cui proteggersi tutto il corpo è esposto ai colpi e quelli non vanno mai a vuoto la gente per lo più preferisce tali spettacoli alle coppie normali di gladiatori o a quelle su richiesta del popolo e perché no non hanno elmo né scudo contro la lama perché schermi protettivi perché virtuosismi tutto ciò ritarda la morte al mattino gli uomini sono gettati in pasto ai leoni agli orsi al pomeriggio ai loro spettatori chiedono che gli assassini siano gettati in pasto ad altri assassini e tengono in serbo il vincitore per un'altra strage il risultato ultimo per chi combatte è la morte i mezzi con cui si procede sono il ferro e il fuoco e questo avviene mentre l'arena è vuota ma costui è rubato ha ammazzato e allora ha ucciso e perciò merita di subire questa punizione ma tu povero diavolo di che cosa sei colpevole per meritare di assistere a questo spettacolo uccidi rusta brucia perché ha tanta paura a slanciarsi contro la spada perché colpisce con poca audacia perché va incontro alla morte poco volentieri non si faccia combattere a sferzate che si feriscano a vicenda affrontandosi a petto nudo c'è l'intervallo si scanni qualcuno intanto per far passare il tempo non capite nemmeno questo che i cattivi esempi si ritorcono su chi li dà ringraziati gli dei perché insegnate ad essere crudele a uno che non può imparare bisogna sottrarre alla folla gli animi deboli a poco saldi nel bene è molto facile subire l'influsso della maggioranza frequentare una massa di gente diversa da loro avrebbe potuto cambiare i costumi persino di socrate catone e lelio nessuno di noi soprattutto quando il nostro carattere è informazione può resistere alla pressione di tanti vizi tutti insieme un solo esempio di mollezza o di avarizia produce gravi danni un commensale raffinato a poco a poco ti guasta ti infiacchisce un vicino ricco scatena la tua avidità un compagno malvagio contamina anche un uomo semplice e puro che cosa pensi che succeda alle nostre convinzioni morali quando vengono attaccate in massa dai vizi due sono i casi o limiti o li odi ma sono da evitare l'uno e l'altro estremo non devi assimilarti ai malvagi perché sono molti né essere nemico di molti perché sono dissimili ritirati in te stesso per quanto puoi frequenta le persone che possono renderti migliori e accogli quelle che puoi rendere migliori il vantaggio è reciproco perché mentre si insegna si impara non c'è ragione per cui il desiderio di gloria debba spingerti a esibire a tutti il tuo ingegno con declamazioni o discussioni pubbliche ti consiglierei di agire così se tu avessi merce adatta alla massa ma non c'è nessuno in grado di capirti capiterà forse qualcuno uno o due al massimo e tu dovrai formarlo ed educarlo perché ti possa capire ma allora per chi ho imparato tutto questo non temere di aver perso il tuo tempo se hai imparato per te ma per evitare di aver imparato solo per me oggi ti scriverò tre belle massime che mi è capitato di leggere all'incirca sullo stesso argomento di queste una salda il mio debito con questa lettera le altre due prendile come anticipo scrive democrito secondo me una sola persona vale quanto tutto il popolo e il popolo quanto una sola persona dice bene anche quell'altro chiunque sia stato è incerto infatti di chi si tratti gli chiedevano perché si applicasse con tanto impegno a una materia che pochissimi avrebbero compreso rispose a me bastano poche persone anzi anche una sola o addirittura nessuna eccellente anche questa terza affermazione di epicuro in una sua lettera a un compagno di studi io parlo non per molti ma per te scrive noi siamo l'uno per l'altro un teatro sufficientemente grande devi caro lucilio serbare in te queste massime per disprezzare il piacere che deriva dal consenso generale molti ti lodano ma perché dovresti rallegrarti se sono in tanti a capirti i tuoi meriti ricerchino l'approvazione della tua coscienza stammi bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti